dentro di te c'è un piccolo filosofo che sonnecchia che ogni tanto si sveglia e si fa sentire aspetta che tu cominci a studiare la filosofia per trovare un modo di esprimersi meglio e di farsi capire meglio dentro di te c'è la voglia di domandarti il perché delle cose che fai e delle cose che vivi c'è la voglia di trovare risposte non scontate non banali alle tue domande c'è la voglia di trovare il tuo pensiero di formarti le tue idee di avere la tua visione della vita di trovare la tua strada non quella che gli altri hanno pensato per te ma quella che tu pensi sia adatta a te dentro di te c'è la voglia di formarsi le tue proprie idee e di saperle motivare in maniera adeguata in maniera razionale saperle discutere saperle confrontare con quelle degli altri dentro di te c'è la voglia di scoprire le cose vere dentro di te c'è la voglia di capire il tempo in cui vivi e di capire quali sono le grandi idee grazie alle quali il nostro tempo vive e sulle quali il nostro tempo si basa dentro di te c'è la voglia di trovare la tua voce in questo mondo di esprimere il tuo punto di vista le tue idee di esprimere la grandezza della tua persona ora al liceo a partire dalla terza la filosofia ti aiuterà in questo percorso perché la filosofia è una materia che aiuta veramente la persona a conoscersi a trovare le proprie idee attraverso lo studio di quei grandi uomini di quelle grandi donne del passato che si sono posti grandi interrogativi sulla vita sulla natura sul bene sul male sul senso della vita sul valore degli altri sul significato della politica sul significato della vita insieme sul dubbio sulle certezze su tutti quelli che sono i grandi temi della vita sull'amore e sulla giustizia sulla bellezza e sulla religione la filosofia è un grande luogo di confronto grazie a questo confronto tu potrai trovare la tua strada che ci sia la filosofia in un liceo è il fiore all'occhiello è l'arricchimento più grande che serve per costruire la tua persona sapere tante cose importanti è importante ma diceva eraclito sapere tante cose non significa automaticamente avere intelligenza ecco la filosofia ti può aiutare ad avere la tua intelligenza a trovare la tua strada a trovare la tua voce grazie a tutti